Sadako Sasaki fu tra le bimbe sopravvissute al giorno dell'esplosione però si ammalò di una forma grave di leucemia. Quando seppe di essere ammalata, una sua amica cercò di incoraggiarla e le raccontò la leggenda delle mille gru di carta. Fare la figura della gru di carta è una tradizione giapponese. La tecnica si chiama origami ed è conosciuta in quasi tutto il mondo. La tradizione giapponese dice che chi riesce a piegare mille gru di carta con ricompensa per la concentrazione e lo sforzo necessarie per realizzarle potrà esaudire un desiderio. Questo lavoro si chiama Senbazuru. L'amica di Sadako fece una gru di origami e gliela regalò. Qui hai la tua prima gru. Le disse e le augurò di poter esaudire il suo desiderio curarsi dalla sua malattia. Sadako cominciò a piegare gru una dopo l'altra con l'intento di realizzare il suo desiderio. Sfortunatamente non ci riuscì. Morì nel 1955 con 644 gru svolazzà intorno a sé. Commossi, gli amici e compagni di scuola propossero di piegare le gru che mancavano. Propossero, inoltre, di raccontare la storia di Sadako e di tanti altri bimbi non previssuti alla bomba atomica, diffondendola tra i bimbi giapponesi e, nel tempo, a quelli di tutto il mondo.